Buon lunedì 28 settembre. In questo scorcio di stagione che rappresenta un invito a una intimità che non si sottrae alla vita comunitaria, ma anzi rinvigorisce la nostra tensione nei confronti dell'altro, una tensione che porta alla ricerca del bene comune, una tensione che non è mai opposizione, ma è un coltivare la pace nei nostri cuori, nelle relazioni che viviamo. Ebbene, in questo scorcio di stagione cerchiamo di costruire le precondizioni feconde, fertili, che ci portano costantemente a una ricerca di armonia con il prossimo nella sua radicale diversità, nel rispetto reciproco, nell'amore reciproco e nella disponibilità a condividere la gioia e la condivisione della gioia. Con questi sentimenti affrontiamo la giornata di oggi. Buona giornata a tutti.